Bene, salve a tutti a questo nuovo episodio di Analisi Tecnica. Sarà molto breve perché volevo prendere in considerazione un titolo azionario, in particolare Netflix, perché se ne fa un gran parlare in questi ultimi giorni, soprattutto dopo l'annuncio degli earnings che è avvenuto qualche giorno fa. Allora, Netflix è sicuramente un titolo che è stato nel 2016, pensate come è stato considerato, non considerato, ha dimostrato di essere il titolo con una crescita maggiore nel paniere dell'S&P 500, quindi è un titolo che ha avuto, e lo vedete anche da questo grafico, una crescita davvero, davvero importante. Pensate che solo ad inizio 2015, quindi parliamo di gennaio 2015, fino ai massimi che si sono registrati a fine 2015, dicembre 2015, ha fatto un incremento quasi del 200%, 195%, passando appunto da un valore, ad azione di 46,18 dollari, fino a toccare i massimi di 133 dollari. Quindi è un titolo che è stato sicuramente nel 2015 un acquisto eccellente per chi ha deciso di entrare, di acquistare delle azioni su Netflix, però ha cominciato a mostrare un po' di debolezza, ed in particolare proprio negli ultimi giorni, guardate qui vedete si è formato, si era formato questo doppio massimo, quindi intorno all'area di prezzo appunto 129, 130, 133, e da questi massimi il titolo poi invece ha cominciato a scendere, scendere in maniera anche, insomma, robusta, perché ha perso in pochissimi mesi, ha perso il 40%, qui stiamo nella fase dell'apertura di mercato d'inizio 2016, dove tantissimi titoli hanno, insomma, perso parecchi punti percentuali, nulla di troppo preoccupante, e adesso che cosa, fatemi vedere, volevo farvi vedere una cosa che stavo notando proprio mentre vi disegnavo qualcosa sul grafico, vedete che adesso dal punto di vista di analisi tecnica si potrebbe, c'è stato questa grossa discesa, questo pullback al ritorno, quindi questo pullback che è arrivato a toccare i 110, quindi dai 80 ha superato, ha rotto la barriera psicologica, anche dei 100 dollari per azioni, e adesso quello che ci possiamo aspettare, se questo fosse un ABCD pattern, quindi un pattern ABCDE, ci potremmo aspettare, fatemela fare tratteggiata così la capite meglio, una discesa di questo tipo, discesa di questo tipo che tra l'altro, guardate, si andrebbe a posizionare proprio su questi minimi che hanno minimi del, o meglio in questo caso erano stati dei massimi, 2014, poi di nuovo inizio 2015, quindi quest'area di prezzo che fondamentalmente va dai 70 dollari fino ai, addirittura potrebbe arrivare qui sotto intorno ai 45, queste sono tutte quante strutture importanti di prezzo, eccole qui, ve le segno così le vedete sicuramente meglio, vedete questa è un'area molto importante su cui il prezzo ha lateralizzato per parecchio tempo prima di salire, adesso potrebbe tornare in questa sua area di comfort, o che almeno in passato è stata un'area di comfort, perciò andiamo a vedere un attimo sul giornaliero che cosa si sta verificando, vedete che sul giornaliero c'è stata questa grossa discesa e non solo, guardate, faccio un po' di zoom, c'è stato questo grosso gap in apertura di mercato, parliamo di, scusate ho sbagliato strumento, parliamo di un gap di del 9%, quindi quasi del 10% subito dopo la comunicazione degli earnings, che cosa è avvenuto in questi earnings? Che dal punto di vista economico non sono andati affatto male, ma hanno comunque fatto scendere il titolo in maniera così importante, quindi vuol dire che ci sono state una quantità di azionari che ha deciso di vendersi il titolo e uscire fuori da Netflix. Bene, sicuramente quello che è successo è che, nonostante i profitti siano appunto ancora decisamente forti, non c'è stata una crescita dal punto di vista internazionale, cosa che invece gli azionisti avrebbero voluto vedere, quindi nonostante ormai Netflix stia in parecchi paesi esteri, la crescita che ha dimostrato è stata una crescita soprattutto nel mercato principale che è il mercato americano, viceversa non c'è stata una crescita nel mercato internazionale, e non solo, Amazon ha messo un po' in difficoltà il titolo perché proprio il giorno prima dell'annuncio degli earnings di Netflix Amazon ha annunciato il suo cambio di schema per il pricing di Amazon Prime Video e che quindi sarà disponibile a tutti a 8,99 dollari al mese. Quindi diciamo che questa notizia non ha sicuramente aiutato, e quindi in questo momento c'è forte insicurezza sul titolo azionario, è sicuramente un momento in cui probabilmente anche dal punto di vista di analisi tecnica vi ho appunto appena fatto vedere questa formazione che c'è stata e che potrebbe andare a vedere il titolo a abbassarsi ancora e fatemi disegnare anche un po' di linee di Fibonacci perché ho visto che si potrebbe formare un... fatemi vedere qua, 68 ok, ci siamo, e qua anche ci siamo, si potrebbe formare un pattern armonico, anche questo tendente un po' al ribasso, quindi ecco qua, e questa è l'altra gamba, e quello che manca adesso di vedere per il completamento è l'ultima gamba, intorno alla soglia di prezzi, 127 dollari. Anche questo è un segnale di analisi tecnica ribassista, e quindi direi che in questo momento, anche se il titolo, fatemi togliere un po' di zoom, anche se il titolo sta toccando i minimi, vedete che il titolo si sta adesso adagiando su questi minimi qua, che hanno funzionato da resistenza e da supporto in passato, in particolare sono i minimi, o in questo caso i massimi del 2015, questo è il flash crash del 24 agosto, e qua possiamo facilmente arrivare in quest'area, perciò io rimarrei veramente ad aspettare di vedere che cosa può succedere su questo mercato. E rimaniamo quindi, rimango quindi attendista. Bene, per oggi è tutto, per questa analisi è tutto, noi ci vediamo alla newsletter di questa settimana dedicata appunto all'analisi tecnica, se non siete iscritti potete iscrivervi con il link che vedete qui sotto a questo video, nella descrizione del video, altrimenti ci vediamo al prossimo appuntamento, grazie a tutti e buon trading!